Ma io la condivido totalmente, qualche settimana fa ricorderete che dissi esattamente questo, che noi bisognava stringere il Green Pass e il modo gentile per chiedere a tutti di vaccinarsi. Credo però che queste misure importanti e da mettere in campo subito siano l'ultimo step che noi abbiamo a disposizione. Se poi la gentilezza non basta io credo che a un certo punto sia necessario rendere obbligatoria la vaccinazione perché in gioco c'è la salute di tutti noi, in gioco c'è la vita di tante persone che grazie al vaccino oggi possono essere ancora insieme a noi ed è una risposta che noi diamo anche ai tanti operatori della sanità che vanno ringraziati, che sono in prima linea da un anno e mezzo. Decidere di non vaccinarsi vuol dire decidere di essere egoisti e quando non ci si fa con la gentilezza credo che le regole debbano diventare chiare e ognuno debba fare la propria parte.